Il Movimento 5 Stelle in questa prospettiva ha compiuto una grande rimonta. Tutti ci volevano fuori dal Parlamento, tutti ci davano a una cifra, ricorderete all'inizio della campagna elettorale, in picchiata, in discesa e la rimonta è davvero significativa. Direi di sì, dopo quanti anni che torniamo a governare il Paese mi sembra una bella responsabilità. Adesso vediamo i risultati, poi come si affineranno. Il risultato è quello complessivo, poi c'è Meloni che guiderà la coalizione. Ma la guida è una posizione. Noi ci siamo, siamo presenti nel Paese e con altissima probabilità porteremo tanti uomini e donne nel Parlamento italiano a rappresentare giustizia sociale e giustizia climatica.